A appena 26 anni l'albanese regolare incensurato ha arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Perugia in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per l'esattezza i militari hanno sequestrato qualcosa come 5,5 kg di marijuana. L'operazione è partita grazie alla collaborazione con i residenti della zona di San Martino in campo, luogo che l'arrestato frequentava con una certa regolarità al fine di incontrare sia uomini che donne noti ai militari quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio è stata una segnalazione a portare i carabinieri sulle tracce del giovane pusher mentre si trovava alla guida di un'utilitaria di colore grigio, mentre sembrava perlustrare la zona teatro della sua attività di spaccio, forse per sincerarsi della presenza di sguardi indiscreti. I militari sono entrati quindi in azione fermando l'albanese. A seguito di perquisizione veicolare sono stati ritrovati 5,5 kg di marijuana, nemmeno tanto nascosti all'interno del vano bagagli, avvolti in tre buste di cello fan trasparente collocati in un sacco nero come quelli solitamente utilizzati per i rifiuti. Insieme alla droga sono stati sequestrati anche due telefoni cellulari presumibilmente usati per contattare i clienti. Per il 26enne albanese sono dunque scattate le manette. Adesso si trova rinchiuso nel carcere di Capanne a disposizione dell'autorità giudiziaria.